La prima pietra era stata posata lo scorso aprile, in una giornata piovosa ma piena di soddisfazione per un paese che stava rialzandosi dopo il dramma del terremoto. A breve sarà sistemata anche l'ultima e il prossimo 7 settembre San Giacomo delle Segnate potrà inaugurare la nuova scuola primaria. Un edificio realizzato grazie al fondamentale contributo di una gara di solidarietà condotta dalla Fondazione Comunità Bresciane e dal Giornale di Brescia, che ha visto la partecipazione di più di mille donatori tra enti, fondazioni e semplici cittadini. La cosa è stata molto importante e credo che denoti lo spirito di solidarietà della provincia di Brescia, che ha fatto queste cose anche per l'Aquila, ha fatto queste cose anche per l'alluvione delle Cinque Terre, quindi è una costante. Una scuola moderna che va ad inserirsi in un polo scolastico composto anche da un micronido, da una scuola primaria e dalla scuola media. La scuola dell'infanzia ospiterà circa 50 bambini, ci sono due sezioni, si entrerà all'interno di una piazza dove ci sarà l'accoglienza, le due sezioni hanno colori diversi che li potrà contraddistinguere, ogni sezione e ogni spazio avrà l'uscita direttamente all'esterno e oltre agli spazi sezioni abbiamo uno spazio dormitorio e uno spazio refettorio. L'edificio sarà completato anche dalla realizzazione di una cucina che fornirà pasti non solo ai bimbi del polo scolastico, ma anche ad anziani e persone in difficoltà.